Buongiorno ragazzi, è il mio amico Valerio, mi metterò un po' di scusare il video perché ho mandato un video, volevo mandare un video di che facevo delle facce, ma l'ha detto che sono il minore, l'ho mandato. Oggi giochiamo a questo gioco, un missile RPG, io sono già andato un grande perché due ore ci voleva, cioè un giorno. Grazie. 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 Grazie.